CNA Abruzzo organizza il maggio formativo e la provincia di Teramo aderisce con tutta una serie di iniziative rivolte sia alle aziende ma anche ai singoli lavoratori. Sì, CNA è la nostra struttura di formazione regionale, ha organizzato questo mese di formazione per le imprese e non solo. Noi come Teramo abbiamo una fetta importante di corsi, oltre 10 su 30 e passa corsi organizzati. Su questa provincia sono corsi che spaziano dall'estetica al settore dell'edilizia e anche corsi di carattere generale sperando che siano corsi utili e sicuramente lo sono per quanto riguarda le nostre imprese. Nello specifico quali sono i corsi che CNA Teramo propone? Allora, CNA Teramo appunto nell'ambito di questa iniziativa promuoverà 10 percorsi formativi. La particolarità di questi percorsi è che sono rivolte non solo ad imprenditori e lavoratori ma anche a privati cittadini. Quindi la CNA apre proprio le porte della propria sede e invitando tutti a partecipare a questi eventi. Le tematiche spaziano appunto da cose un po' più frivole di interesse appunto anche di un semplice cittadino. Quindi parliamo di corsi non professionali e anche di trucco. abbiamo proposto a attività formative più tecniche e più specifiche che possono interessare categorie di imprese in particolare, ortigiani nello specifico quali impianti e anche edilizia.